Torno agli eventi della Teletona, sabato 14 aprile al Teatro Petrarca, la terza edizione di più unici che rari. Che serata sarà? È una serata all'insegna della continuità, della tradizione, perché la terza edizione ti dà un bel supporto morale per andare avanti in quella che è la nostra missione di raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Questa che in fondo è la mission di Teleton. Tanti gli ospiti, tante le iniziative a favore di Teleton? Sì, tanti gli ospiti e con orgoglio che dobbiamo dire che sono tutti aretini, perché tutti gli artisti che si esibiranno questa sera sul Teatro Petrarca sono proprio tutti di origine aretina perlomeno, come pure la ricercatrice che ci illustrerà quella che è l'evoluzione del progetto su cui lei da aretina sta lavorando in un laboratorio Teleton a Firenze, con il supporto del suo collega Manuel Pionier. Altra cosa che mi preme comunicare alla cittadinanza è che con orgoglio dobbiamo dire che abbiamo per la seconda volta Omero Toso, vicepresidente nazionale di Teleton, che è un privilegio averlo insieme a noi. Ecco, ricerca ma anche spettacoli di intrattenimento. Certo, spettacoli di intrattenimento perché abbiamo una scuola di danza, una scuola di recitazione, userei dire, lo Spaventa Passeri, un gruppo di Civitella della Chiana diretto da Tino Banchietti, poi abbiamo il Due Ghinetti, poi abbiamo Oida, la nostra grande orchestra retina, la nostra conduttrice Ilaria Lorenzini che ormai anche per noi, anche lei diciamo la madrina di Teleton perché è stata lei che per la prima volta in questo territorio ha organizzato con altri amici uno spettacolo per Teleton in ricordo di Andrea e quindi da lì è partito tutto quello che è Teleton ad Arezzo. Ecco, una serata di gala, di beneficenza ma tornano anche i banchini di Teleton. Sì, la serata, questa è una delle serate top diciamo delle nostre iniziative e tornano anche i banchini Teleton dove venderemo, mettiamo a disposizione di chi vuole fare delle donazioni i biscotti a cuore di Teleton. Il 5 e il 6 di maggio saremo nelle piazze retine come lo facciamo nel periodo natalizio e più da dire sempre con orgoglio che c'è sempre a Rigutino per la seconda volta, Rigutino in festa il 6 maggio che organizzeranno una bellissima giornata per la raccolta fondi sempre per la fondazione Teleton.